Il progetto Video Modeling Autismo si configura come un tentativo di sviluppare un'attività di ricerca che però abbia una forte ricaduta sul piano dell'applicazione a livello scolastico, a livello familiare, a livello sociale, con l'intenzione di migliorare le capacità di adattamento all'ambiente di persone con disturbo dell'ospedale autistico. Ecco, cerca di portare un aiuto per favorire apprendimenti tipo imitativo, ben sapendo che l'imitazione rappresenta uno dei punti di debolezza dei nostri allievi che fanno fatica ad apprendere dal contesto se questo non è organizzato per favorire l'apprendimento stesso. Si fonda sulla verifica ormai avvenuta in letteratura di come la visione di filmati, soprattutto quando poi è reiterata, possa consentire di acquisire degli apprendimenti in ambito di autonomie ma anche in ambito sociale e nazionale che così possano aprire i nostri allievi ad una possibilità di vita un pochino più adeguata dal punto di vista sociale. Ecco, che cosa faremo sostanzialmente? Da un lato studieremo quali sono le forme più adeguate per favorire questo apprendimento, quindi quale modello, la persona stessa, degli amici dei compagni di scuola, i genitori, persone non conosciute, avatar, ecco un aspetto legato alla ricerca e un aspetto legato all'applicazione, cioè cercheremo di creare, creeremo una banca dati di video molto consistente che possano essere come app scaricate su ogni sistema, anche sul telefonino, da parte degli allievi stessi, se chiaramente le condizioni lo consentono, delle famiglie, degli insegnanti o di altri operatori. Ad esempio l'allievo con disturbo dello spettro autistico che deve ad alta funzionalità, che deve ad esempio entrare in negozio, può scaricare il video di come si chiede un'informazione in negozio, di come si sviluppa un acquisto, eccetera. Allo stesso modo a livello scolastico possono essere sviluppate tutta una serie di applicazioni che possono favorire apprendimenti funzionali sul piano appunto di apprendimenti curricolari, ma anche di quelli sociali. Quindi questo aspetto da un lato di ricerca e dal lato di applicazione è quanto mai importante, oltretutto noi abbiamo la possibilità, avendo anche la foto dell'allievo, di poter applicare su tutti i fotogrammi il viso stesso dell'allievo per sviluppare esperienze, in questo caso di video self-modeling, nelle quali è lui stesso il modello con l'auspicio che questa possa consentire un apprendimento più significativo. Ecco, tutto questo elemento applicativo e di ricerca andrà ad arricchirsi poi con tutta una serie di sperimentazioni nell'ambito della realtà aumentata, soprattutto nel contesto scolastico, cioè come possono essere favoriti apprendimenti di tipo sociale e la visione e la fruizione anche di storie sociali attraverso l'animazione e la possibilità di rendere molto più concrete, attraverso le applicazioni tecnologiche della realtà aumentata, delle situazioni che risultano poi significative nel contesto scolastico, sociale e familiare, chiaramente in ogni altro ambito, per gli allievi con disturbo dello spettro autistico che hanno bisogno di particolari supporti al fine di favorire apprendimenti funzionali e in grado di garantirne il miglior adattamento all'ambiente. Grazie per l'aiuto che riuscirete a fornirci.